Terminata la scorpacciata di beach volley culminata con lo spettacolare B4B per la pallavolo della nostra zona, mancano poche settimane all'inizio dell'attività con lo start delle preparazioni precampionato e con i vari tornei che prenderanno il via più avanti in ottobre. Ponendo l'occhio soprattutto alle formazioni che prenderanno parte ai tornei regionali, iniziando dal settore maschile ecco Altea Alziora che dopo la salvezza raggiunta in largo anticipo e con la qualificazione ad una criticata post-season in Serie C nella scorsa stagione cercherà ancora di fare bene. Confermato in largo anticipo il coach Alberto Franzini ormai da parecchio sulla panchina della storica società verbanese, Altea Alziora ha salutato Alessio Faraci che ha lasciato l'attività indoor e che sarà sostituito dal giovane Filippo Dian quale vice Marco Miani in cabina di regia. La formazione rimarrà più o meno quella della scorsa stagione ma potrebbero esserci due innesti ancora non confermati dal club, quello di Matteo Colangelo ed il probabile ritorno di Francesco Castanò dopo un anno in Serie B a Varese. Resterà in Serie D il Bistro Domodossola, poche novità per il suo dalizio Solano che punterà a confermare i programmi della scorsa stagione, cercando i play-off con un mix di giovani ed esperti sempre guidati in panchina da Giovanni De Vito. Difficile il rientro definitivo di Fabrizio Pedaci, sempre alle prese con un ginocchio malandrino, possibili ulteriori innesti dal settore giovanile del club. Dopo una scorsa stagione nella scuola della post-season è sfuggita, un anno in più di esperienza potrà essere qualcosa di importante. Passando al mondo femminile, due formazioni del VCO giocheranno nei tornei regionali in Serie D, Vega Occhiali, Rosalziora Verbania e Pallavolo Omenia. Il club verbanese ha confermato Andrea Cova, allenatore, coadiuvato da Andrea Franzini e dalla new entry Fabrizio Balzano, soprattutto impegnato però nei settori giovanili. Presenterà una squadra sulla falsariga di quella che ha veleggiato in medio-alta classifica nello scorso campionato. Potrebbe esserci anche qualche innesto per rendere ancora migliore una rosa comunque di buon livello, che potrebbe anche confermarsi in ottima classifica. L'omenia di Matteo Azzini prenderà il via della stagione, che la vede tornare nei tornei regionali, con una squadra giovane, imperniata sulle under-16 che hanno fatto bene l'anno scorso, con qualche elemento di esperienza. Un progetto a lungo-medio termine per puntare in un periodo abbastanza breve al salto di categoria. Attenzione, Radio Volley parla di uno squadrone costruito in zona San Maurizio-Dopaglio, grazie al progetto Oasi Volley. Mentre poco si sa di Arona. Qualche settimana e sarà tutto più chiaro.